La valenza sociale e politica della misericordia, quale volontariato per il bene comune, è il tema che è stato trattato dal Vescovo della Diocesi di Piazza Medina, Monsignore Rosario Gisara, nell'ambito di un incontro che si è svolto nella Casa del Volontariato di Gela, alla presenza di tutte le associazioni di volontariato locali. A promuoverlo sono stati la Casa del Volontariato, il coordinamento delle associazioni di volontariato, il Movi e la Delegazione di Gela del CESVOP. Il volontariato è una bellissima risorsa, una grande risorsa che può veramente ribaltare le sorti della nostra città, ovviamente nella misura in cui ci si mette assieme, nella misura in cui ci collaboriamo. Il concetto di cooperativa, secondo me, è proprio legato a questo, cioè al fatto che effettivamente ognuno possa dare la mano all'altro e insieme tentare in tutti i modi di fare perno sulle criticità della nostra città, ma poi direi anche della società tutta. Appellandomi al Papa, penso che quello che lui desidererebbe in questo momento è la vicinanza ai poveri, ed è quello che dobbiamo fare, dobbiamo fare, cioè devo farlo io evidentemente, ma con me e tutta la comunità ecclesiale, cioè questo è quello a cui noi dobbiamo tendere, questa vicinanza ai poveri, che comunque in città questo aspetto dei poveri assume un volto ben preciso, che sono appunto le famiglie che in questo momento hanno perso il lavoro, stanno prendendo il lavoro, quindi noi dobbiamo assolutamente essere vicini a loro. La missione sociale del volontariato non è di supplenza o di integrazione dei servizi pubblici, ma di promozione e sostegno all'autonomia delle persone per contribuire al loro benessere, a quello delle loro famiglie e delle comunità locali, ha detto Enzo Madonia, presidente del Movi di Gela, tra i promotori dell'incontro. Dalla periferia vogliamo insieme dire, con l'associazione del volontariato e con la presenza del Vescovo, della necessità di accendere una luce, di accendere i fari sulle periferie della città, ma sulle periferie esistenziali, sulle povertà. C'è la necessità, visto il periodo che stiamo vivendo, di costruire una forte coesione sociale.